Buon pomeriggio Buon pomeriggio Il pannello dice che mancano due minuti alla conferenza stampa Il fatto che siano presenti tutte e due Fontana e Gallera fa pensare che sia una giornata particolare dal punto di vista delle comunicazioni Oggi anche oggi si è parlato di notizie più confortanti per quanto riguarda le tendenze Però come abbiamo visto ieri poi bisogna capire se davvero queste tendenze si concretizzano anche in un calo dei decessi In una situazione che ormai è chiara anche a livello internazionale come quella della maggiore emergenza del dopoguerra Quindi da tre quarti di secolo a questa parte Poco fa quello che è il grande capo della sfida anti coronavirus negli Stati Uniti Il professor Fauci che è di origine italiana Ha invocato che in tutti gli Stati dell'Unione sia utilizzata e sia imposta la legge italiana Diciamo quella del tutti in casa Dello stare in casa Non voglio entrare negli attriti tra gli ordini federali e i diritti degli Stati Ma se si guarda quello che sta accadendo in questo Paese Non capisco perché non lo facciamo Va notato che appunto l'autorità di Fauci è tale da fargli poter dire queste cose Pur sapendo che questa non è la linea del Presidente Trump Ma già in passato si è visto Poi alla fine la Casa Bianca ascolta quelli che sono in consigli di colui che è considerata veramente la massima autorità in materia negli Stati Uniti Questo per quello che riguarda un breve passaggio sulla notizia dell'ultima ora sulla scena internazionale Ma torniamo ai fatti italiani Come vi dicevo tra pochi secondi c'è la conferenza stampa e c'è attesa Oggi abbiamo visto i dati di ieri Oggi quale potrebbe essere un elemento positivo Evidentemente un molto minore numero di contagi in rapporto ai tamponi fatti Un molto minore numero dei ricoveri e dell'utilizzo delle terapie intensive E ovviamente anche dal punto di vista degli decessi pur non illudendoci di essere in presenza poi di notizie clamorosamente rassicuranti Abbiamo visto sempre oltre 350 morti nelle ultime giornate per la sola Lombardia Che è un bilancio pesantissimo Però la speranza è che anche quei numeri comincino a scendere Dopodiché alle 18 sarà il turno della conferenza stampa nazionale Diciamo del commissario dell'emergenza coronavirus Che è il capo della protezione civile cioè Borrelli Borrelli il quale dovrà precisare delle affermazioni fatte questa mattina Che per quel che sappiamo hanno suscitato anche qualche malumore sulla scena istituzionale Perché ha preannunciato di fatto che anche fino al primo maggio si resterà a casa Come a dire non soltanto Pasqua a casa ma anche il 25 aprile e il primo maggio Per parlare delle due ravvicinate a una settimana una dall'altra Feste laiche per definizione del calendario di primavera e non soltanto E questo ovviamente al di là del primo maggio in sé Sta a significare che dal punto visuale, dall'angolo visuale di Borrelli L'emergenza è ancora lunga e il metodo più forte e più completo Cioè stare tutti a casa deve essere ancora utilizzato anche fino ad allora Del resto vediamo che negli Stati Uniti questo stesso metodo si predica Da parte della più alta autorità epidemiologica del Paese Questo è quello che ci aspetta nella giornata di oggi Pochi secondi e vedremo insieme Fontana e Gallera Ieri non c'era neanche Gallera ricorderete e chi conduceva quella conferenza stampa virtuale Ha dovuto anche spiegare che c'era un incontro in giunta per non ingenerare voci In questi casi purtroppo sempre dietro l'angolo ci sono le voci su presunte positività Già un assessore come si sa della giunta regionale della Lombardia è stato positivo E come sappiamo ne è uscito E sapete anche che quella sorta di commissario bis che la regione Lombardia aveva richiamato dall'Africa Ovvero Guido Bertolaso è a sua volta ricoverato e positivo al Covid, al coronavirus Mancano proprio pochi secondi, mi fanno cenno che ci siamo quasi In questa giornata vi devo ancora ricordare che ci sono dei dati che sono già sopraggiunti Ad esempio quelli che riguardano la regione Campania In Campania, sto raggiungendo la notizia riguardante la Campania Ci sono stati in totale 181 decessi dall'inizio dell'epidemia e 144 pazienti guariti Il dato è riferito a ieri fino alla mezzanotte, quindi fino a 17 ore fa Nella provincia di Napoli ci sono 619 casi e nel napoletano 809 Per un totale di 1428, nel salernitano 400, nell'avellinese 340, nel casertano 264, nel beneventano 85 Questi sono i numeri, migliora il rapporto tra decessi e guarigioni Dato che ci sono 144 persone che hanno superato la malattia I deceduti sono, ripeto, 181 66 di quelle 144 persone sono totalmente guarite 78 sono clinicamente guarite Cioè non hanno più bisogno di cure ospedaliere ma non hanno ancora superato la positività Questo per quanto riguarda la Campania Altre notizie che arrivano riguardano il Piemonte Dove le autorità locali attendono i dati di oggi Dopo tre giornate che sono state molto dure per quella regione Tutte e tre le giornate a ridosso delle 100 vittime Di questo ci occuperemo nel telegiornale di questa sera È anche da dire che praticamente è arrivato anche il dato che riguarda lo Stato di New York Nello Stato di New York è stata la giornata più dura Nello Stato di New York ovviamente siamo alla fine della mattinata In queste 24 ore ci sono stati 595 morti È appunto il giorno peggiore dall'inizio dell'epidemia negli Stati Uniti Ora nello Stato di New York i casi sono 102.863 14.000 e oltre pazienti sono in ospedale E appunto i morti sono arrivati a 2935 E con i 565 in più delle ultime 24 ore Consideriamo stiamo parlando 2935 vittime solo nello Stato di New York Quindi una porzione che è un terzo praticamente della popolazione italiana E praticamente meno è un quindicesimo circa se non vado errato Della popolazione degli Stati Uniti Questo per dire la situazione Peraltro New York anche ieri aveva praticamente metà di tutte le vittime degli Stati Uniti Da quando appunto è iniziata l'emergenza È stata proclamata l'emergenza coronavirus Vi faccio vedere a tutto schermo che da ormai molti minuti Campeggia sul sito della regione Lombardia La scritta, la diretta inizierà tra due minuti E noi siamo qui che la attendiamo Questo per dirvi che mancano veramente Dovrebbero mancare pochi secondi Bisogna nel frattempo dire che ci sono anche i dati Su una regione che è stata molto colpita Come sappiamo sin dall'inizio dell'epidemia in Italia Il Friuli Venezia Giulia Dove i casi accertati sono 1879 E quindi ci sono stati 80 casi in più 80 positività in più nelle ultime 24 ore I guariti sono 195 Mentre i guariti clinicamente senza più sintomi Ma non ancora negativi al tampone Quindi con ancora positività sono 224 In queste 24 ore ci sono stati 7 morti in più Il totale quindi è arrivato a 136 vittime Del Friuli Venezia Giulia per il coronavirus Il dato più alto di casi positivi è quello registrato Nell'area di Udine con 681 persone contagiate Seguono Trieste che ne ha 629 Pordenone 452 Gorizia 111 Questi sono i dati per quanto riguarda il Friuli Intanto vi do anche una prima visuale Su quello che sta succedendo nel braccio di ferro europeo Perché la commissaria Margrethe Vestager Che è vicepresidente della Commissione europea Ha dichiarato di essere profondamente preoccupata Per la divisione tra l'area nord e quella sud Dell'Unione europea Tra i paesi del nord che si sa sono Però ne riparliamo perché inizia la conferenza stampa Informazione con la stampa Oggi abbiamo l'onore e il piacere di avere qui il presidente Che mi ha richiesto Abbiamo qualche problema La mascherina è bene che noi impariamo a tenerla sempre Certo non potremmo trasmetterla così Se rientriamo e la resettiamo è la cosa migliore Soltanto evidentemente un attimo C'è una pan tecnica Perché vedo che in realtà nel sito sta andando avanti Era diventato il simbolo di tutti quelli che stavano lottando Ecco vediamo soltanto un attimo Mentre vi dico quello che sta dicendo Fontana Sta parlando di quella infermiera Che con quella sua foto Ricorderete accasciata su un registro Era diventata il simbolo della straordinaria tenacia Vediamola se la stanno mostrando Ecco questa è la foto a cui fa riferimento Fontana Perché appunto quella infermiera poi risultò positiva E adesso per l'appunto è guarita E questo è E ringraziarla per tutto quello che fa e che continuerà a fare E nello stesso tempo credo si debbano ringraziare tutti i suoi colleghi Tutti gli infermieri di questo meraviglioso paese Di questa meravigliosa regione Che stanno lottando come dei leoni Per combattere insieme a tutti noi questa battaglia importantissima E poi Giulio un'altra bella notizia Perché anche per le insistenze Per le tante insistenze Che abbiamo rivolto all'Istituto Superiore della Sanità Oggi è arrivato il riconoscimento La certificazione delle nostre mascherine Quelle mascherine che avevamo iniziato a raccogliere Ma che non potevamo utilizzare Perché mancavano di certificazione Da oggi potremmo iniziare a distribuirle Dai che andiamo sulla strada giusta Bene, grazie Anche questa è una bellissima notizia Perché i dispositivi sono quelli che mancano Grazie Presidente Grazie a te Buon lavoro Il Presidente va in un'altra riunione E noi continuiamo il racconto Il racconto di quello che stiamo facendo E anche l'andamento dei numeri E l'andamento della voce dei nostri ospedali Bene, ancora oggi Per un altro giorno I numeri sono numeri positivi Quindi siamo in attesa A creare il Professor Perno Che lo chiamiamo dopo Sono da solo Tolgo la mascherina Così poi il Presidente non mi Giustamente non mi rimprovera Perché è giusto che sia così Adesso chiamerò Dopo una mia prima analisi Il Professor Perno Lasciamo lì adesso il Professor Perno Tanto lo chiamiamo Appena abbiamo finito Non c'è problema Perché abbiamo chiesto ancora Di approfondire il tema Dei test sierologici È tutto il giorno che vi chiediamo Se avete delle domande Dei quesiti di porli Peraltro possiamo continuare anche A fare domande Durante la diretta E quindi vi daremo delle risposte Cerco di rallentare Il mio modo di parlare Perché giustamente sono stato ripreso Oggi mi riprendono tutti Prima il Presidente Era la mascherina Adesso mi riprende No, nei giorni scorsi Perché parlando troppo velocemente Nella lingua dei segni Non si riesce a rappresentare In maniera compiuta Quello che stiamo facendo I dati Vi dicevo i nostri dati I dati sono dei dati positivi Perché siamo a 7.520 Contagi Oggi Con una crescita di 1.455 Ma abbiamo processato Molti più tamponi Rispetto a ieri Come sapete Noi stiamo iniziando Ormai Sono circa 10 giorni 15 giorni Che tamponiamo Tutti i medici Di medicina generale Anche quelli che non hanno sintomi Che tamponiamo Gli operatori sanitari Che hanno più di 37 e mezzo Di temperatura Iniziamo anche a tamponare Alcune delle persone Che devono uscire Dopo la quarantena Cioè Gli operatori sanitari E anche dei cittadini Trascorsi 14 giorni Come si dice Dalla clinica silente Cioè dal momento in cui Non hanno alcun tipo Di sintomo Li tamponiamo Per verificare Che si siano immunizzati E quindi che il tampone Sia diventato negativo Quindi crescono Il numero dei tamponi A volte crescono anche Il numero dei positivi Ma Continuano a diminuire O comunque A essere Diciamo Molto bassi Il numero Dei ricoverati Siamo a 11.802 Più 40 Rispetto A ieri Ieri c'era un dato Addirittura negativo Ma 40 È un numero Estremamente basso Sulle terapie intensive Siamo a 1381 Più 30 Ma anche qui Ho verificato Che continua Una minore pressione Sulle terapie intensive Anche se Le terapie intensive Sono sempre Sature Perché Come ben sappiamo Le persone che entrano In terapia intensiva Vi rimangono Per 18 20 giorni E le persone Che stanno oggi Arrivando Nei pronti soccorsi Sono persone Che hanno un carico Di complicanze Abbastanza sostenuto Sono Continuano A crescere In maniera costante Ma importante Il numero Dei dimessi Oggi siamo A 13.020 Più 791 Il numero Dei decessi È sempre Un numero alto 8.311 Più 351 Con una lieve Flessione Rispetto Anche ieri Che era Più 367 Quindi Anche questo È un numero Che come abbiamo Sempre detto Sarà l'ultimo Indicatore Della svolta Ancora Queste riduzioni Così impercettibili Non ci possono far dire Che effettivamente Anche questo dato Sta mutando Però è Un tanto Un segnale positivo Quindi tutti i dati Ancora oggi Sono confortanti Siamo Come è stato detto Si è Possiamo dirlo Arrestata La crescita Siamo in una fase Di stabilizzazione Che tende A ridursi Ed è esattamente La stessa cosa Che apprendiamo Dall'ascolto Degli ospedali Quasi tutti i pronto soccorso Hanno avuto Chi una riduzione Molto significativa Chi una riduzione Lieve Ma costante E c'è anche Una riduzione Complessiva Nei ricoveri Quindi I nostri ospedali Stanno iniziando Fortunatamente Un po' A respirare Quindi riusciamo E' ancora di sollievo A quegli straordinari Eroi Tra cui Elena I dati Provinciali Delle province Abbiamo Bergamo È arrivato A 9.315 Scusate Che è Più 144 Rispetto a ieri Ieri Era più 132 Quindi anche qui Vedete Siamo in linea Non c'è una crescita Di questi dati Brescia 9.014 Più 257 È un po' più alto Rispetto a ieri Ma la situazione È una situazione Anche a Brescia Che apprendiamo A essere Complessivamente In miglioramento Nella 1.256 Più 51 Oggi Ieri era più 48 Cremona 4.097 Più 123 Ieri era 33 Ma qui probabilmente C'è un tema Di laboratori E di numero Voglio dire Di kit E di tamponi Processati Che arrivano Magari in un momento Successivo A quello Della raccolta Dei dati Perché ogni volta È molto altalenante Il dato di Cremona L'eco 1.594 Più 42 Ieri era più 36 Vedete Ormai siamo proprio Molto Diciamo Costanti L'odi 2.214 Più 25 Più 32 Ieri Milano 10.391 Più 387 Ieri Milano Era più 482 Quindi con una Riduzione significativa Mantova 1.884 Più 102 Ieri Mantova Era più 46 Comunque Siamo più o meno Sulle stesse Ordini di grandezza 2.134 2.331 Pavia Più 46 Ieri Pavia Aveva più 105 Quindi questo è un dato Invece Molto più basso Sondrio 537 Più 20 E anche qui Siamo assolutamente In linea Varese 1.085 Più 83 E anche questo Era più 65 Ieri Sulle grandi città Il dato Forse significativo Da prendere in considerazione È il dato di Milano Milano è più 166 Ieri Ieri era più 203 Rimangono assolutamente Con le stesse Ordini di grandezza Brescia Più 29 Bergamo Più 23 Quindi Siamo veramente Dati 1.357 Totali Brescia 1.177 Il totale Di Bergamo Cremona Più 21 Monza Più 52 Siamo Codogno Più 1 Crema Più 0 Ecco Crema Quindi questo è Era già molto basso 4 Ieri Oggi 0 Quindi in quelle aree Diciamo che C'è una Riduzione Anche significativa Quindi I dati che sono Confortanti Dati che evidenziano Che lo sforzo che abbiamo compiuto Sta producendo Non lo chiamo io Sta producendo Dei risultati Dobbiamo però Continuare così Sia mai Che proviamo Ad allentare Lo capisco Che è faticoso Le giornate Sono giornate Belle Di sole Piacevoli Ma dobbiamo Resistere E Questo è il momento In cui bisogna dimostrare La propria forza Che resistere Perché resistere a casa Quando piove E fa freddo Sono capaci tutti Bisogna dimostrare Di essere capaci Di stare in casa Quando le giornate Sono belle Quando ci si induce Magari A fare una passeggiata E lì che viene fuori Il nostro carattere I lombardi Hanno un carattere Straordinario Adesso Lo dobbiamo dimostrare Tutti Con grande Fermezza E determinazione Io vi ridò Ancora due buone notizie E anzi Vi chiedo di prendere nota In maniera importante Di questa novità Che abbiamo introdotto E cioè Finalmente Abbiamo reso Fruibile da tutti La dematerializzazione Della ricetta Molti di voi Mi hanno segnalato Che hanno ricevuto Nei giorni scorsi Un messaggio Sul proprio telefonino Hanno ricevuto Un SMS Che si diceva Vuoi attivare Il servizio Il codice ricetta VSM Per le ricette farmaceutiche Cioè Abbiamo ricevuto Dalla Lombardia Ve lo faccio vedere Perché l'ho ricevuto Anch'io E quindi È un dato Voglio dire Ho avuto la prova Da fruitore Di quello Che abbiamo Fatto Vedete Purtroppo Io ricevo Troppi messaggi E poi non riesco A Vediamo Se così È più efficace No Vedete Quando si cercano le cose Non si riescono a trovare Comunque Abbiamo ricevuto Come molti di voi Un messaggio Che diceva Che da oggi Avremmo potuto ricevere Via SMS Un codice Da dare Al farmacista Per ritirare Le ricette Quindi questo Cosa vuol dire Che se uno È già utente Del fascicolo Sanitario Elettronico E dei servizi Welfare Digitali Come sono io E come sono molti Con cittadini L'attivazione È automatica E cioè Abbiamo ricevuto Come tanti Un messaggio Dicendo che Da oggi Noi avremmo ricevuto Un codice Da mostrare Al farmacista Per ritirare La ricetta Poi ci sono Quindi Questo cosa vuol dire Che se io ho bisogno Di fare una ricetta Per ritirare un farmaco Chiamo il mio Medico di medicina Generale E gli dico Dottor Rossi Per cortesia Mi può prescrivere Io uso un farmaco Per l'ipercolesterolemia Oppure qualcos'altro Lui te lo prescrive Non bisogna andare Nello studio del medico Ma immediatamente Nel momento in cui Lui la prescrive Lo inserisce Nel fascicolo sanitario Elettronico Questo Mi manda Direttamente Sul mio Cellulare Un codice Io vado in farmacia Dico che ho Una ricetta Faccio vedere Il codice Sul telefonino E il farmacista Mi dà Direttamente La scatola Delle medicine Ma questa Possiamo usufruire Di questo Non soltanto Le persone Riusciamo a mandare La slide Perché questa è una slide Molto importante Grazie Non solo coloro Che hanno ricevuto Questo sms E magari Non Ecco Vedete quando si dice Che prepariamo tutto E poi le cose Non rieschiamo a farle pronte Lo metteremo Sulle pagine Facebook Di Lombardia e Notizie E anche sulla mia Perché io ve la posso far vedere Ma evidentemente Non si legge niente Quindi è inutile Che io ve la faccia vedere Ma la posteremo Perché è importante Che tutti lo sappiano Perché Qualcuno Che ha ricevuto L'SMS Quando chiamerà il medico Vedrà comparire direttamente Sul suo cellulare Un codice Va in farmacia E questo codice lo dà Ma però Anche chi non ha Il fascicolo sanitario elettronico Può usufruire Di questo servizio E come può farlo? Per attivare il servizio Sulla home page Del sito Bisogna fare Andare su www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it Si iscrive il numero Della tessera sanitaria E il numero Del proprio cellulare E nient'altro A quel punto Tutte le volte Che voi chiamate Il vostro medico Di medicina generale Per farvi fare una ricetta Vi arriverà direttamente Sul cellulare Il codice E voi andrete Dal farmacista E ritererete E ritererete direttamente La vostra ricetta C'è anche La possibilità Di farlo Chiamando il medico Di medicina generale E chiedendo a lui Di attivare Questo servizio Nel momento In cui vi fa La ricetta Ma direi Che la cosa Tessera sanitaria È il proprio Numero di telefono E abbiamo risolto Un grande problema Cioè non dobbiamo Più andare Dal medico Per ritirare La ricetta E poi andare In farmacia Per ritirare Il medicinale Ma andiamo Direttamente In farmacia Facendo vedere Il cellulare E ritirando I farmaci Allora Siamo andati Adesso Come avete sentito Siamo entrati In un ambito Più dichiaratamente Marcatamente Locale Però abbiamo visto I numeri Della Lombardia In cui effettivamente Si vede Una tendenza Non sfavorevole Per quanto riguarda Il rapporto Tra tamponi E nuovi casi Per quanto riguarda I ricoveri E un po' anche Le terapie intensive E è diminuito Ma non certo In maniera È consistente Anche il numero Dei decessi Che in Lombardia Sono 351 Sono stati Nelle ultime 24 ore 351 E questi I numeri Che come vedete Possono far capire Anche una volta E sentiremo sicuramente Dire dagli esperti Che si è raggiunto Il famoso Piano Il pianoro Quello Dopo La salita E prima E della discesa Non aumenta più In maniera superiore Ai giorni precedenti Nessuno Degli indicatori Solo che Gli indicatori In alcuni casi Sono Possono essere Possono essere Lievemente preoccupanti Le positività Più marcatamente Preoccupanti I ricoveri Ancora di più Le terapie intensive Possono essere Rassicuranti Le guarigioni Ma quando parliamo Di oltre 350 Morti Che prefigurano Inutile Che ci giriamo intorno Che a livello nazionale Le vittime Siano più Del doppio Probabilmente Anche oggi Oltre 700 Non possiamo certo Parlare Di ottimismo O di svolta Al contrario 351 vittime Come abbiamo sentito Ora Praticamente Tra poco più Di 10 minuti Sentiremo Il dato Del bollettino Nazionale Una giornata Che è contraddistinta Anche Da alcuni altri Elementi Ve li dico Prima di andare A una breve pausa Innanzitutto Dal punto di vista Politico Questa sera Ci sarà Un incontro Ovviamente In videoconferenza Tra il Presidente Del Consiglio Conte E i Governatori Delle Regioni E quindi Ci sarà anche Sicuramente Il Ministro Delle Regioni Boccia Quello Della Sanità Speranza E praticamente Bisognerebbe Fare Secondo Quello Che Trappela Da Palazzo Chigi Il punto Della situazione E raccordare La gestione Dell'emergenza In realtà Si è andato Molto in ordine Sparso Su alcune cose Questo ha Ingenerato Anche Alcune Polemiche Nei giorni scorsi E ancora E ancora Oggi Tra l'altro Col dibattito Aperto Sulla Rinazionalizzazione Ricentralizzazione Di alcune parti Della materia Della materia Sanitaria Si sa Che è materia Concorrente E che comunque La gestione Spetta Ospedaliera Alle regioni Dopo quello Che è successo Sia da parte Del Partito Democratico Che dal Movimento 5 Stelle Si è tornati a Parlare Di una Ricentralizzazione Ma sono Fortemente Contrarie Le forze Di opposizione Vi devo dire Che la borsa Oggi è andata Molto male Ha perso Il 2,67% Le banche Hanno molto Zavorrato I listini Ed è ricresciuto Anche Lo spread Ma questo Francamente Nell'immediato E non solo Nell'immediato Ci interessa Meno Del bilancio Del bollettino Che riguarda Le vite umane Ci fermiamo Rieccoci qui Insomma Abbiamo sentito I numeri Della Lombardia Aspettiamo Tra poco Quelli nazionali Appena possibile Rivediamoli Se mai I numeri Che sono stati Divulgati Dall'assessore Gallera Ecco Li vediamo Un po' sgranati Ma li vediamo Questi sono I casi per provincia Vediamo l'altro Se è possibile Ecco Riepilogo generale Le positività Sono arrivate A essere Come vedete 47.520 Più 1.455 Sono un po' più di ieri Erano 1.200 Però Su un numero Di tamponi Come vedete Il primo dei dati Che è molto Molto più ampio Oltre 135.000 In terapia intensiva Più 30 Come vedete Il ricorso La terapia intensiva Più 30 Unità E poi Subito sotto Anche i Decessi Che sono Arrivati a essere In Lombardia 8.311 8.311 Vittime Solo in Lombardia E Nelle ultime 24 ore Sono stati 351 Poi ci sono I ricoverati Non in terapia intensiva E che sono Come vedete Soltanto 40 In più Siamo A 11.802 Totali I dimessi Sono Molti Come vedete E sono Praticamente 791 In più E questi Sono i dati Generali Vediamo anche Abbiamo visto Disfuggita Rivediamo i dati Provincia per Provincia E come si vede L'indicatore Più alto Ovviamente Per la metropoli Milano Che ne ha Oltre 380 In più Però I dati Sono tutti In linea Rispetto a quelli Dei giorni Scorsi Che Fa ovviamente Fa ovviamente Sperare Che appunto Ci sia un consolidamento Della situazione E che porti Alla Tanto Tante volte Citato Arrivo Della curva Discendente Quella che dovrebbe portare Potrebbe Portare Vicino A quota E zero I nuovi contagi In quel caso Davvero Saremmo usciti Da quella che è La peggiore La peggiore Delle emergenze Del tempo di pace La peggiore Delle emergenze Degli ultimi 75 anni Che stiamo cercando Di vivere Il giorno per giorno Sapendo che In realtà Tutti La stiamo In qualche modo Toccando con mano Attraverso Privazioni Che sono Molto inferiori Per tutti noi Rispetto A quelle Dei tempi Di guerra Ma che Vogliono dire Evidentemente Molto sul fronte Sulla prima linea Che come abbiamo visto Dai numeri Continua a essere Quella della Lombardia Anche se Posso già anticipare Dai numeri di oggi Che Che la Lombardia Non ha più Il peso Di metà Del bilancio Nazionale Adesso È un po' Meno E questo Sta a significare Che forse La situazione Si sta decongestionando Appunto Nella regione Martire Come l'abbiamo Definita E di questa Aggressione Del coronavirus Piuttosto C'è L'occasione Per parlare Di Qualcos'altro Del fatto Che su quella Prima linea Sono Come si sa Accaduti Anche Molti Uomini e donne Della Sanità Molti Medici Molti Infermieri Molti del Personale Ospedaliero Che non citiamo Mai Perché Però Per chi Si è stato Ricoverato Abbia avuto Amici Conoscenti Parenti Dei cari Ricoverati Sa quanto Anche il personale Ospedaliero Oltre Ai medici E agli infermieri Sia importante E per quanto riguarda I medici Oggi si è arrivati A bilancio Di 77 Morti Lo Si apprende Dalla federazione Nazionale Dell'ordine Dei medici Sono Erano Un Diabetologo Uno Odontoiatra Un pediatra Un medico Di famiglia Appunto Siamo a quota 77 Dall'inizio Di questa Emergenza Questi sono I dati Che purtroppo Tocca dare Sono Dati che Compongono Un quadro Che è Sempre Difficile Però L'assessore Gallera Ha detto Che La situazione È positiva Però Se Il Rapporto Il tasso Dei contagi È un po' Superiore Di ieri Ieri Avevamo Detto Era sceso Drasticamente Al 2,89% Oggi È risalito Al 3,16% Il rapporto Tra tamponi E positivi È di un Positivo Ogni 4,6 Tamponi Ieri Era uno Ogni 5,3 Che vuol dire Appunto Che c'è Una Maggiore presenza Di Positività Mi pare Il dato Sia Ben Comprensibile Praticamente Se la vogliamo Dire diversamente Su ogni Praticamente Ci sono Due positivi Ogni 9 Tamponi Ieri Erano Due Positivi Ogni Praticamente 11 Quindi C'è un Aumento Del numero Dei Positivi Questo Può voler dire Ovviamente Tante cose Tra qui La più Probabile Che Più si va Avanti Nella ricerca E più si Trovano Contagiati Ma vuol dire Anche L'altra Cosa Che forse Non c'è Ancora Stata Quella Completa Aderenza Alle indicazioni Che sono Cogenti Per tutti Che sono Obbligatorie Per tutti Di restare A casa Il più Possibile Troppa Circolazione Porta A ulteriori Contagi Tra pochi Secondi Sono le 18 E tra pochi Secondi C'è la Conferenza Stampa Che abbiamo Imparato A vedere In tutti I suoi Aspetti Alla Sede Della Protezione Civile Roma Con Il capo Della Protezione Civile Padrone Di casa Che è anche Il commissario All'emergenza Coronavirus Borrelli E a turno Un esperto Uno scienziato Impegnato Nella Commissione Che sta seguendo L'evolvere Del contagio Dell'epidemia Ebbene Per oggi Per tra pochi secondi C'è attesa Anche per quello Che dirà Borrelli Su un altro Su un altro piano Non quello Dei numeri Dei dati Ma quello Del prolungamento Di questo lungo Regime Di isolamento A casa Per tutti Noi Perché Questa mattina In un'intervista Borrelli Ha Domanda Ha detto Non illudiamoci Il primo maggio Staremo ancora a casa Con ciò Allungando Rispetto Come si sa A quello che è stato Soltanto da poco Comunicato Da 48 ore E dal governo Allungando di molto Quel Termine Che appunto Conte Era fissato Al 13 Di aprile Se Già Borrelli Commissario Su questa emergenza Dice che Alcune Tre settimane Dopo Si sarà ancora A casa Vuol dire Che la situazione Dal punto di vista Di chi la vede Con tutti gli strumenti A disposizione Non si è ancora Rasserenata Non se ne vede ancora La fine Entro Poche Settimane E quelle parole Di Borrelli Questa mattina In realtà Hanno suscitato Molti Ma rumori Abbiamo verificato Negli ambienti Del governo Negli ambienti A maggioranza Negli ambienti Scientifici Anche Dove Da un lato Si dice Queste cose Meglio Che le Facciano sapere E le argomentino Gli studiosi Dall'altro Queste cose Si dicono Soltanto Quando le si sono Predisposte E le si sono Decise E peraltro Abbiamo verificato Anche Che non c'è Compiuta Certezza Che le cose Siano così Cioè Non è affatto Detto Che i tempi Devono essere Così lunghi Potrebbero essere Più brevi Ma potrebbero essere Anche diversi Insomma È impossibile Prevedere Cosa può Succedere Esattamente Tra Quattro settimane Visto che di questo Parliamo Quando parliamo Del primo Maggio Ora aspettiamo Di vedere Ovviamente Questo Da Borrelli In una Conferenza stampa Che ci deve Anche Far sapere Far capire Sul numero Di casi nazionali Se c'è Una tendenza Come quella Che si Intravede Dai giorni scorsi E come un po' Si è vista Anche in Lombardia Anche se con L'aumento Dei tamponi E forse non solo C'è stato un aumento Relativo Dei nuovi casi E per quanto riguarda I decessi Quanto si è Modificata La mappa Della letalità In Italia Ci sono Regioni Come il Piemonte E le Marche In cui La situazione È stata A quanto pare In ascesa Più dura Nei giorni scorsi E forse anche oggi Rispetto a come Stia andando Ad esempio In Emilia Romagna Dove quel picco Di decessi È già stato Superato Per quello che si vede Adesso Gradualmente Sono forse Meno Seppure Relativamente In una situazione Che resta molto Difficile Vi preannuncio È possibile farlo Visto che C'è qualche Secondo di ritardo Nella conferenza stampa Che ovviamente Anche nel fine settimana Noi vi Proporremo Questo appuntamento Del pomeriggio Per i bollettini Che sono il momento Più importante Nel racconto Quotidiano Dell'aggressione Da parte Del coronavirus E della nostra Lotta Della lotta Soprattutto di chi Sta in prima linea Medici Infermieri Personale Sanitario E di chi Si batte Sul campo Anche dagli altri Punti Di vista Per Circoscrivere Quello che è Ripeto Il più grave Episodio in tempo Di pace Che abbia investito Il nostro paese E non soltanto Il nostro paese Vi ricordavo prima I numeri Che sono diventati Veramente Molto Molto Pesanti E molto Gravi Anche per quanto Riguarda Lo stato di New York E a questo punto Quell'emergenza Sembra Addirittura Superare Per intensità Progressiva E quella italiana E quella E quella Spagnola Questo E quello Che si è Visto E quello Che si Attende Vi parlavo Del Piemonte E vi devo dire Che C'è ancora La notizia Siamo a Borgo Manero Provincia di Novara Di una RSA In cui C'è stato un numero Grave Pesante Di decessi In una residenza Per anziani Si chiama Opera Pia Curti A Borgo Manero Siamo in provincia Di Novara E Nella struttura Secondo quanto È stato detto In sede regionale Sono decedute 17 persone Ma ancora Non è stato eseguito Questa è la denuncia Nessun tampone Ai dipendenti Nessun test Sierologico Ai pazienti Per sviluppare Anche questa notizia Vi rinvio Al servizio Che abbiamo già Predisposto Per il telegiornale Delle 20 Di questa sera E Per quanto Per quanto Riguarda Il bollettino Io Ce l'ho qui davanti Ma Non spetta a me Comunicarlo E argomentarlo Soprattutto Spetta a Borrelli E ai suoi Esperti La tendenza È simile Però A quella Lombarda Quella che abbiamo Già visto Per quanto riguarda La Lombardia Raccontata Dal presidente Della regione Fontana E dall'assessore Gallera Tra l'altro Fontana Ha voluto ricordare E l'immagine Che stiamo vedendo In questo momento Ha voluto ricordare Un caso Che è importante Quello Di quella Infermiera Che noi abbiamo visto Sempre di spalle Riversa In una foto Che è stata Un po' Uno degli emblemi Dello straordinario Lavoro Che si è fatto Sul campo Riversa Come Assopita Dopo una giornata Lunghissima Di lavoro E immortalata Appunto Da una Da una Fotografia Quella infermiera Era Stata poi Riscontrata Positiva E ha finito Proprio In queste ultime ore Il suo Turno di quarantena Chiamiamolo così In questo caso Dopo tanti turni Veramente Enormi Per durata Sulla prima linea Della corsia Dopo la quarantena Ha finito la positività E risultata Negativa All'ultimo Tampone E è guarita Ed è la buona notizia Di cui ha voluto Parlare Fontana Qui lo dico Perché ogni tanto Ci sono Polemiche A noi Francamente Non importa nulla Del colore E della bandierina Di ciascuna Delle figure Che Quotidianamente Vediamo Nel raccontarci Nel darci Le notizie Sui numeri E sull'andamento Della Lotta Della sfida Del coronavirus E della lotta Che si fa Sul campo Per circoscriverne L'epidemia E il contagio Noi raccontiamo Quello che sta succedendo Poi ci sarà Quello che si chiama Il tempo di pace In cui si parlerà Di chi è stato bravo E chi non è stato bravo Adesso Francamente Permettetemi Di dirlo Le polemiche Politiche Possono lasciare Il campo A un'analisi Più solidale Dello sforzo Che si sta facendo Rifiutandoci Di pensare Che a livello centrale O a livello Delle singole regioni Delle singole comuni Ci sia qualcuno Che sbaglia apposta Se sbaglia Di errori Ne abbiamo visti E fatti Anche noi giornalisti Tanti Ci troviamo di fronte A un nemico Nuovo Sconosciuto Di cui non conosciamo Le potenzialità Le armi Il grado di letalità Le modalità Con cui ci aggredisce Gli studiosi Freneticamente Lo stanno studiando Ma non sapendo Noi le caratteristiche Si è portati Tutti a sbagliare O a conoscere Progressivamente A prenderne le misure In corso In corso D'opera E questo è il racconto Che dobbiamo fare Senza dire E chi poi Ha il diritto Di dare i voti Agli altri Chi ha sbagliato E chi no Devo dire che È la prima volta Che c'è questo Ritardo Nella comunicazione Dei dati Però dobbiamo anche Ricordare Che questi dati A livello Regionale Vengono Vengono messi insieme E poi vengono Collazionati Da parte Dei dirigenti Della protezione civile E fissati Tutti insieme C'è ancora qualche secondo Vediamo quell'immagine Di cui parlavamo prima Prima abbiamo visto La foto di quella Bella signora Risanata Che era l'infermiera Di cui si parlava Questa è la fotografia E che è stata Veramente emblematica Della prima parte Terrificante Della sfida In cui non si conosceva Giorno e notte Da parte degli operatori Delle operatrici Di prima linea Sulla frontiera avanzata Della Lombardia Tra Ricorderete Lodi Codogna E poi progressivamente Bergamo e Brescia Qui adesso Vediamo l'immagine Di oggi Di Elena Pagliarini L'abbiamo vista prima L'immagine Di Elena Pagliarini L'infermiera Che appunto Poi ha vissuto La positività Da cui è Da cui è uscita Da cui è uscita Oggi Vediamo Vedete anche La didascalia Presa da un quotidiano Credo sia Repubblica Scoperto di essere positiva Il Covid-19 Cinque giorni dopo Lo scatto Che l'ha resa famosa Suo malgrado Qui c'è scritto Ora Resta in attesa Del secondo campone Che certifichi La sua completa La sua completa Guarigione Ma noi sappiamo Che c'è stato Quindi Questo per quanto Riguarda Per quanto Riguarda Quell'immagine E adesso Quel volto E quella storia Che ha una Conclusione Una conclusione Positiva Vedo che C'è movimento Ma non ancora L'arrivo di Borrelli Possiamo vedere L'immagine Della segnazione 1 L'immagine Della sede Della protezione Civile Qui appunto Giorno dopo giorno Quel tavolo Che abbiamo imparato A conoscere Quei microfoni Quel distanziamento Sociale Dietro al tavolo Lì si siederanno Il commissario Borrelli E l'esperto Di oggi Per leggere Divulgare E commentare I dati I dati Odierni Vediamo Se abbiamo Altre notizie Nel frattempo Che possiamo Darvi Sulla situazione In alcune Regioni Su cui già Si conoscono Si conoscono I dati Ecco Una delle notizie In cui Vi dovevo dare Riguarda La Puglia Che oggi Ha vissuto Una giornata Più difficile Perché i numeri Parlano Di 20 Nuovi Decessi Nella Regione E con 105 Nuovi casi Registrati Su 1270 Test Effettuati E Praticamente La maggior parte Dei nuovi casi Sono A Bari 41 25 A Foggia 15 A Taranto 10 A Brindisi 6 A Lecce 3 A Barletta Alderiatriani Bat L'altra provincia L'altra provincia Pugliese Questi dati Della Puglia Che sono stati Ovviamente Diffusi A livello Regionale Fontana Forse l'avete sentito All'inizio Proprio Della conferenza stampa Ha dato anche L'altra notizia Che l'Istituto Superiore Di Sanità Ha dato L'ok Alle mascherine Lombarde Che ora Vanno subito In Distribuzione Ora però C'è una notizia Che arriva Dagli Stati Uniti Ve la leggo Così Ne parla Un Uno studio secondo cui il coronavirus potrebbe trasmettersi anche quando la gente respira e parla e non soltanto quando lo starnutisce o tossisce. I più apprensivi a questo punto proprio non vorranno incontrare nessun altro. Sono le conclusioni di alcuni studi scientifici preliminari che l'Accademia delle Scienze Americana ha dettagliato alla Casa Bianca. Sono stati citati poco fa da Anthony Fauci, ne abbiamo parlato prima, il massimo esperto americano delle malattie infettive e la guida della task force che sarebbe in realtà presieduta dal vicepresidente Mike Pence della Casa Bianca contro il coronavirus. Questa notizia ovviamente cambia anche i parametri di sicurezza e renderà forse negli Stati Uniti a questo punto ancora più necessario l'utilizzo delle mascherine che appunto se anche il respiro e il parlare sono in qualche modo pericolosi, le mascherine a questo punto in entrata e in uscita le mascherine per chi parla e per chi ascolta sono un elemento di freno o comunque di limitazione del rischio evidente. Vedremo però anche questo. Voi sapete la nostra consuetudine a parlare, anche se pure con le notizie che abbiamo appena sentito dagli Stati Uniti, non ho a portata di rischio di contagio a nessuno e fino a prova del contrario sono sano. Però a questo punto ci chiediamo se davvero non ci sia qualche problema visto che la consueta conferenza stampa adesso ha un ritardo praticamente di un quarto d'ora e come vi dicevo è un quarto d'ora che potrebbe servire a mettere insieme i dati ma la verità vera è che noi i dati li abbiamo davanti ai nostri occhi sono stati come sempre accade diffusi prima gli organi di informazione con ovviamente quello che si chiama l'embargo cioè l'obbligo di non divulgarli prima che siano resi pubblici appunto dalla conferenza stampa del capo della protezione civile commissario all'emergenza coronavirus Borrelli quindi non conosciamo, può essere anche semplicemente un'emergenza o qualsiasi altro elemento che tenga lontano Borrelli dalla conferenza stampa però segnalo questo insolito quarto d'ora di ritardo nella conferenza stampa per quanto riguarda gli Stati Uniti di cui vi parlavo a proposito di questo studio e prima ancora per quanto riguarda il professore Anthony Fauci vi dicevo all'inizio forse non tutti erano collegati dei dati a questo punto oggi molto pesanti i più pesanti dall'inizio dell'emergenza nello Stato di New York perché è stato anche oggi il governatore di quello Stato Andrew Cuomo a darne notizia ci sono stati nelle ultime 24 ore 526 morti sono stati superati con oggi i 100.000 casi positivi stiamo parlando del solo Stato di New York sono stati superati 3.000 decessi anzi sono quasi 3.000, mi scuso e ci sono 14.000 ricoverati questi sono i numeri che sono stati ufficializzati dal governatore Cuomo 102.863 per la precisione i casi positivi quasi 3.000 decessi e soprattutto 526 di questi decessi 526 morti in soltanto 24 ore queste notizie evidentemente fanno capire che la situazione negli Stati Uniti si stia deteriorando ancora più velocemente di quanto non si pensasse dalla protezione civile ringraziamo il collega Mapelli che ci ha fatto da tramite dalla protezione civile dicono che ci vogliono ancora 5 minuti e se ci vogliono 5 minuti noi ci fermiamo così subito dopo saremo con voi ecco sentiamo subito il 62% sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi purtroppo oggi registriamo 766 nuovi deceduti il totale dei guariti è di 19.758 rispetto a ieri le persone guarite sono 1480 in più oggi voglio darvi anche il numero del dato totale dei tamponi effettuati alla data odierna sono 619.849 e rispetto a due giorni fa tra ieri e oggi sono stati eseguiti oltre 80.000 tamponi per quanto riguarda la CROSS ad oggi sono stati trasferiti 114 pazienti dalla Lombardia 9 in più rispetto a ieri di questi 74 sono pazienti con coronavirus 40 pazienti senza coronavirus di cui 38 pazienti in Germania tutti affetti da coronavirus per quanto riguarda le forze in campo il totale dei volontari sono 16.798 questi si sommano ai Vigili del Fuoco alle Forze Armate alle Forze di Polizia al personale sanitario le tende di pre-triage sono 792 mentre le tende di pre-triage negli istituti penitenziari sono 151 ad oggi per quanto riguarda le donazioni abbiamo raccolto 104.274.748 euro anche qui voglio ancora una volta ringraziare tutti quanti i donatori piccoli e grandi che hanno effettuato versamenti sul conto intestato al Dipartimento e rispetto a ieri sono state spese in totale 11.519.000 con un incremento di 1.596.000 per l'acquisto dei materiali, dei DP e dei ventilatori voglio anche ricordare che da domani e domenica partirà il primo contingente della task force degli infermieri che andranno nelle regioni più colpite Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte Liguria, Marche, Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige e voglio anche ricordare per quanto riguarda la cosiddetta fase 2 che al momento c'è una sola data che è quella del 13 aprile così come ha annunciato il Presidente del Consiglio dei Ministri voglio anche ricordare che purtroppo oggi alcune mie parole sono state equivocate perché io avevo fatto un ragionamento e un ragionamento nel quale avevo detto chiaramente che le misure sarebbero state determinate in relazione all'evoluzione della situazione in atto e che quello che stiamo fronteggiando è un virus nuovo e per questo motivo è difficile fare previsioni ed abbassare la guardia mi dispiace anche che questo mio ragionamento poi sia stato tradotto schematicamente in un titolo che non ha reso bene idea di quello che era il ragionamento sottostante che era stato da me fatto infine l'ultima cosa che voglio ricordare come alcuni di voi avranno saputo un nostro funzionario è stato buttato in pasta a taluni siti e organi di informazione da un noto quotidiano e al di là di quella che è la scorrettezza della modalità utilizzata ci tengo a precisare che il lavoro fatto in questi mesi dal Dipartimento dai miei colleghi da ognuno dei miei colleghi come è dimostrato dall'audio delle telefonate che sono state rese pubbliche è stato un lavoro pulito, preciso e contro un broker internazionale senza scrupoli che provavano a vendere di tutto e raggirare chiunque venisse in contatto con loro siamo riusciti ad evitare truffe allo Stato e come è successo anche in altre parti per altre organizzazioni questo grazie al lavoro di squadra rodato e al senso del dovere dello Stato che hanno i miei colleghi del Dipartimento di cui non posso che andare fiero io mi fermerei qui professore se vuole aggiungere qualcosa grazie grazie dottor Borrelli vorrei aggiungere dei dati che sono inerenti alla terapia intensiva e che probabilmente possono essere di interesse lunedì verrà pubblicato sul JAMA il resoconto dei primi 1.310 pazienti assistiti in terapia intensiva e che dimostravano come tre quarti di loro 874 avevano delle comorbidità in larga parte correlati all'ipertensione e malattie cardiovascolari di questi pazienti la maggior parte 90% ha subito una ventilazione invasiva cioè con l'intubazione tracheale e il 10% la non invasiva la mortalità in questo campione è stata intorno al 15% maggiormente concentrata tra i 65 e i 90 anni se poi caliamo i dati relativi al mio ospedale noi abbiamo avuto 152 pazienti in terapia intensiva nelle ultime tre settimane 73% di essi provenivano da pronto soccorso e il 26% dai reparti in pazienti che poi si sono aggravati quindi è molto importante considerare come l'impatto che arriva alle terapie intensive non è un impatto che giunge solo dal territorio quindi immediato nel pronto soccorso ma anche da pazienti che hanno inizialmente dei sintomi più contenuti anche se impegnativi e che ricoverati in ospedale possono deteriorare la condizione fino a rendere necessario il ricovero in terapia intensiva la fascia d'età ad ogni modo è forse un pochino più ampia e guarda include anche la fascia che è tra i 45 e i 64 anni importante in ultimo è considerare come nelle terapie intensive e questo è vero per i dati che abbiamo localmente ma anche a nord l'adegenza media è di circa 10 giorni e nella maggior parte dei casi può estendersi fino ai 15 20 giorni quindi vi lascio immaginare come l'impatto non è solo dalla severità della patologia che dobbiamo trattare ma anche il fatto che per la sua risoluzione il controllo e il sostegno alla funzione vitali ci sono lunghi periodi di ricovero che impattano anche sulla capacità diamo spazio alle vostre domande buonasera a tutti sono caldi cittadini che spisca di io una domanda per il commissario poi se anche il dottore vorrà partecipare molto volentieri vorrei parlare della fase 2 non delle date però una fase 2 arriverà o prima o dopo arriverà voi state dicendo agli italiani state in casa gli italiani stanno in casa sono molto disciplinati però credo che abbiano bisogno anche di immaginare quello che luciderà dopo sappiamo che non c'è un'ora e un dopo nel senso che non saranno due momenti così netti ci sarà una terra di mezzo come la state immaginando voi della condizione lei è commissario come la state immaginando con il supporto dei dati ovviamente ma come la state immaginando a gradi a step alcune zone geografiche per fasce d'età per per settori insomma per alcune attività sì altre no come e per favore non mi dica che ci state più lavorando c'è più qualcosa di più perché credo che sia importante dare questo messaggio a chi ascolta grazie come sa per quanto riguarda l'organizzazione di questa gestione emergenziale che è una emergenza molto grande noi abbiamo un comitato tecnico scientifico che in queste ore sta discutendo sta elaborando si sta confrontando io quando avrò noti questi dati queste informazioni potrò dare anche il mio la mia opinione sicuramente il comitato tecnico scientifico sta facendo queste valutazioni la decisione sarà rimessa su come realizzare la fase 2 al governo al consiglio dei ministri quindi io non mi posso permettere non voglio permettermi di anticipare cose che a me non sono note ma questa è un'emergenza ma questa è un'emergenza ma lei ha una difficoltà quindi come lei lo sa lei lo sa come è un'emergenza sicuramente lo sa guardi guardi io posso raccontare quando so ho anche gli elementi di tipo scientifico non avendo gli elementi non vi posso dire nulla adesso credo che valga la pena aggiungere che noi dobbiamo dare una comunicazione sincera e se effettivamente da un punto di vista scientifico i dati sono in fase di elaborazione e quindi una risposta certa e chiara alla sua domanda non c'è uno può fare solo un'analisi che nasce anche dalle ultime considerazioni e gli ultimi dati che oggi il professor Brusaferro attraverso l'istituto superiore di sanità ci ha comunicato e cioè che c'è un calo nella trasmissione del virus se c'è un calo nella trasmissione del virus sembra che uno ripeta sempre le stesse cose ma la realtà ci dice che le misure di contenimento hanno avuto un'efficacia e si è visto anche con un calo verso le terapie intensive ma il modello e quindi l'evoluzione è continua ed è difficile perciò dare una risposta secca ad una domanda come quella che lei ha posto una risposta secca comunque dovete dare un'estate di speranza credo è importante non è la speranza sicuramente buonasera Paola Motta Sky TG24 dottor Borrelli lei spesso rinvia a Borrelli ma non è la giornata evidentemente dopo la vicenda a primo maggio abbiamo le conferenze stampa degli esperti e gli esperti ci rimandano ad altri le sottopongo ancora alla riflessione che facevamo ieri di una comunicazione unitaria tempestiva e chiara perché questo è il bollettino che forse nelle scorse settimane ha unito un paese segnato da sofferenza lutti e smarrito e forse questo è il luogo dove anche gli esperti dovrebbero esporre le loro analisi dei numeri e le risposte alle nostre domande ma sto fermandomi sulla domanda di una fase due lei ritiene che saranno obbligatorie le mascherine? Allora intanto io sarei e sono felicissimo di poter avere accanto a me tutti gli esperti che sono necessari intanto ringrazio il professore Antonelli perché è stato qui insieme a me fa parte del comitato tecnico scientifico oggi mi accompagna e quindi è una voce autorevole del comitato tecnico scientifico però questo è un tavolo grande quindi chiunque può venire e auspico anche che in qualche modo ci possa essere una presenza di altri rappresentanti del tavolo tecnico scientifico per quanto riguarda le mascherine io più che fare un discorso sulle mascherine ritengo che noi dobbiamo adottare e saremo sempre più costretti ad adottare dei comportamenti di distanziamento sociale come vedete io non porto una mascherina normalmente non la porto ma non perché voglio dire che la mascherina è inutile cerco di rispettare le distanze e rispettare quelle regole di prudenza che sono state indicate dalla comunità scientifica che sono state poi tradotte in regole di convivenza civile quindi anche qui sulle mascherine io non posso dirvi nulla allo stato attuale perché non sappiamo quella che sarà l'evoluzione se sarà necessario o no indossare le mascherine oggi non è necessario per chi riesce a tenere le distanze e riesce ovviamente a rispettare le indicazioni che sono state date buonasera Veronica Di Benedetto Montaccini The Post Internazionale TP.it torno sulla questione della protezione adeguata per i medici e per il personale sanitario perché come ormai sappiamo è proprio negli ospedali che c'è il maggior rischio contagio e quindi due domande la prima sulle mascherine in particolare quelle donate dalla Cina nei giorni scorsi lei il dottor Borrelli insomma ci ha parlato di come 6.000 siano state consegnate per errore ai medici cioè non erano quelle adeguate FFP2 o FFP3 volevo sapere come stanno andando le altre consegne e anche per esempio in un'intervista al nostro giornale sono state diverse le voci che hanno parlato di mascherine comunque scadenti rispetto a quelle inviate dalla Cina per esempio Joshua Wong il leader delle proteste a Hong Kong dice proprio tutti i carichi che vengono dalla Cina sono scadenti volevo sapere intanto come li state valutando quante sono quelle donate quante sono quelle che invece sono state comprate dalla Cina se sono state tutte donate insomma un chiarimento su questo seconda questione sui dp dispositivi di protezione individuale sono troppi ancora quelli che arrivano ai medici senza certificazione e il personale sanitario è molto spaventato cioè non so se deve usarli non deve usarli quindi che cosa voi insomma come comitato scientifico rispondete ai medici grazie Allora partiamo dalle mascherine le mascherine come ho detto prima consegnate l'altro giorno c'è stato un errore logistico nella distribuzione noi acquisiamo mascherine per il personale sanitario ma mascherine anche per la cittadinanza come sapete e quindi vengono distribuite c'è un canale di distribuzione che diventa sempre più cospicuo solo ieri sono stati distribuiti oltre 4 milioni e 800 mila mascherine quindi nei prossimi giorni arriveranno le mascherine anche in sostituzione di quelle che erano state date e noi poniamo assolutamente attenzione con un controllo da parte di personale della Croce Rossa che è nei nostri luoghi di deposito e di smistamento delle mascherine quindi facciamo una verifica della bontà dei prodotti che ci arrivano e quindi sono convinto che non avremo difficoltà in futuro ulteriori rispetto a quella che abbiamo registrato per quanto riguarda l'uso dei DPI anche lì i DPI che noi acquistiamo o riceviamo vengono verificati almeno a me non è risultato sugli altri DPI a differenza delle mascherine che ci siano state delle criticità vorrei se posso aggiungere che per quello che riguarda il contesto ospedaliero noi cerchiamo di seguire determinate procedure norme e ottimizzazione delle risorse a seconda della tipologia di contesto e di funzione che i vari operatori sanitari devono apportare sul malato mi spiego meglio se io devo essere il reparto e non devo entrare nella stanza del malato noi normalmente indossiamo la mascherina chirurgica come quella che ha lei se però io debbo compiere delle procedure che in un qualche modo espongono ad esempio alla aerosolizzazione delle particelle noi quando intubiamo facciamo delle broncoscopie allora i mezzi di protezione devono salire di livello però esiste un tabulato molto chiaro che è anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che ci porta a dover utilizzare in modo appropriato le varie risorse e i vari DPA aggiungo come ultima considerazione che sapendo quanto può essere problematica la penuria di queste risorse noi cerchiamo di ottimizzare e ad esempio all'interno del reparto pur pagando un prezzo in termini di fatica si tende a tenere per tutto il proprio turno i mezzi di protezione in tutta l'area che quel cosiddetta critica dove sono allocati i malati e soprattutto se si trovano in uno spazio più aperto e non in stanze singole noi stiamo assistendo ad un decremento importante della terapia intensiva per lo meno così apparentemente però questo non corrisponde ad un simile calo dei contagi allora la domanda è ma chi sono i nuovi pazienti cioè visto che stiamo facendo più tamponi stiamo andando a sondare anche i pausi sintomatici persone che vivono assieme a dei malati che si sono ammalati prima che erano più deboli e che quindi hanno avuto più bisogno di cure chi sono questi nuovi 4.585 casi oggi forse ci può rispondere appunto per se darle una risposta assolutamente certa non è facile deve però considerare che ancora il picco non si è esaurito e di conseguenza quello che noi abbiamo visto anche se ora c'è una tendenza in calo è frutto di ciò che è stato nelle precedenti tre settimane quindi darle una risposta e vedere a questi casi come nuovi casi e non quelli che nella evoluzione della malattia era più o meno previsto che arrivassero forse non è esattamente corretto inquadrarli in quella maniera ecco Romana Ranucci agenzia Italpresso un'altra domanda in merito alla terapia intensiva e intanto a che punto sono anche le sperimentazioni che non abbiamo più saputo notizie sulle sperimentazioni delle nuove cure e è possibile che anche queste nuove cure diminuiscano l'accesso alle terapie intensive lei intende prima di arrivare in ospedale anche in ospedale magari se le persone ospedalizzate come ha detto lei una percentuale arriva in terapia intensiva però se delle persone ospedalizzate vengono prese in tempo anche con i nuovi farmaci con le nuove terapie si evita l'accesso poi in terapia intensiva in merito a questo la risposta è duplice la prima è che non esiste attualmente dimostrato in modo scientifico una terapia che al 100% sia superiore rispetto ad un'altra e sono in corso sia a livello italiano attraverso l'AIFA l'agenzia italiana sia a livello internazionale una serie di protocolli e di studi molto seri volti ad offrire una risposta a questa situazione a quindi alle necessità se poi qualcuna di queste terapie iniziata precocemente sia opportuna per prevenire l'accesso alle terapie intensive non è possibile in questo momento dirlo ma in sé è un ragionamento logico laddove avessimo la certezza che il risultato è quello atteso Buonasera Angelo Zaccone Teodosi per Il Riformista anzitutto volevo manifestarle in pochi secondi il mio apprezzamento professionale da giornalista e anche civile da cittadino per la sua disponibilità rispetto alle critiche improprie di chi l'accusa di parlare troppo ma rispetto a questo mi associo all'osservazione critica della collega io credo che dobbiate unificare la comunicazione in una stessa giornata pochi giorni fa noi giornalisti siamo stati costretti ovvero chi era interessato a seguire alle ore 12 il commissario Arcuri alle ore 14.30 il professor Brusaferro e alle ore 18 ovviamente la sua abituale conferenza stampa credo che sia necessario nell'interesse del paese del sistema dei media e dell'informazione la domanda non le pongo più la domanda sul deficit di dati in relazione a quanti sono gli stranieri contagiati e deceduti perché non si sa non lo sa nemmeno l'istituto superiore di sanità lasciamo perdere quelli che sono deceduti a casa lasciamo perdere quelli deceduti aspettiamo che qualcuno dia queste risposte ma la domanda che le pongo a fronte di questi deficit ritiene lei di potersi fare interprete con il ministro perché evidentemente è lui l'interrutore fondamentale per una decisione di questo tipo di cooptare nel comitato tecnico scientifico delle professionalità e degli accademici di discipline altre rispetto a quelle che già ci sono penso a un esperto in psicologia penso a un sociologo e penso anche per il problema dei dati a uno statistico grazie guardi il comitato tecnico scientifico per come è stato costituito può essere integrato alla bisogna anche da altre professionalità sicuramente l'elemento psicologico è un elemento importante tant'è vero che anche rispondendo a delle vostre domande ieri ho detto che le nostre associazioni di volontariato la parte della componente psicologica perché abbiamo anche degli psicologi nel mondo del volontariato è fortemente attiva quindi sicuramente il comitato tecnico scientifico valuterà e io stesso mi farò portatore di questa esigenza per fare in modo che possiamo tutti quanti avere degli elementi di informazioni ulteriori per l'esame e lo sviluppo dell'andamento dell'epidemia se mi permette vorrei aggiungere che è un'osservazione fatta dalla prima linea dal campo alla quale io in realtà appartengo che si tiene in grande considerazione anche negli ospedali la presenza di figure come quelle che lei ha citato gli psicologi non solo per poter dare un supporto laddove l'ammalato cosciente ha bisogno di una rassicurazione che vada oltre il nostro umano contatto ma addirittura ma addirittura anche per il personale ricordo che soprattutto nella nostra area critica lo stress a cui è sottoposto il personale nonostante lo straordinario entusiasmo che è stato manifestato sempre in tutta Italia è uno stress forte e quindi avere la possibilità di mi conceda la parola di un sollievo è d'aiuto Simone Canettieri del Messaggero ho una domanda per il dottor Borrelli in questi giorni noi stiamo assistendo purtroppo da quando c'è stato l'acuirsi della crisi da un continuo conflitto tra regioni e stato centrale nella gestione dell'emergenza un conflitto che si è visto sia dal punto di vista sanitario sia dal punto di vista delle ordinanze che poi hanno emanato le singole regioni per questo le volevo chiedere due cose la prima se lei ritiene che questo è un parere tecnico capisco che non è politico se per lei sarebbe meglio in un futuro di fronte a gestioni di calamità del genere avere una sanità che abbia una gestione centralizzata e non regionale capisco che non rientra nelle sue pertinenze però può darci sicuramente un consiglio diciamo un parere tecnico e la seconda in vista delle prossime ordinanze che sono di fatto decadute con l'ultimo DPCM del 3 aprile se lei auspica perlomeno che nuove ordinanze delle regioni siano tutte in linea con il DPCM in vigore soprattutto alla luce di un'eventuale fase 2 con dei nuovi focolai che potrebbero diciamo divampare in singoli territori e potrebbero costringere a nuove ordinanze ancora più restrittive in territori ancora più piccoli quindi il problema di fondo è chi decide e chi comanda la famosa catena di comando grazie allora io credo di poter rispondere a tutte e due le domande con quello che è il modello di intervento che noi abbiamo nella protezione civile in cui la materia è una materia concorrente quindi con una competenza principale da parte delle regioni ma quando c'è un'emergenza un'emergenza nazionale ci si ritrova tutti quanti uniti a gestirla sotto il coordinamento del sistema di protezione civile questa è un'emergenza sanitaria non è un'emergenza di protezione civile quindi ha avuto uno sviluppo un andamento una gestione diversa rispetto a quella del sistema di protezione civile non è un caso che io nel corso della conferenza stampa fatta a Milano subito dopo la dichiarazione stato d'emergenza quando sono stato ad accompagnare il ministro Speranza nella regione Lombardia ho detto che il sistema di protezione civile affiancava il sistema sanitario e quindi tutta la gestione della componente sanitaria perché la nostra capacità quella del sistema di protezione civile è una capacità rodata e soprattutto è una capacità nella quale si realizza piena sintonia e gioco di squadra la seconda sulle ordinanze è quella dell'esigenza di avere un'armonizzazione evitare di avere voci diverse e dissonanti rispetto a quelle che sono le decisioni che vengono prese questo è un auspicio il mio credo dal punto di vista tecnico ma anche del buonsenso bene allora concludiamo qui buona serata a tutti grazie arrivederci eccoci allora abbiamo sentito questa conferenza stampa che è un po' slittata e poi abbiamo preso proprio appena appena in tempo e come abbiamo visto in buona sostanza oltre ai dati che sono la cosa più importante che anche che anche oggi ci parlano di 760 morti c'è la constatazione vediamo il dato complessivo insieme in eccolo qua e vedete che ci sono stati 776 morti 1480 guariti e le positività sono aumentate di 2339 che cosa ci dice questo dato che siamo ancora là del resto l'avete forse sentito il professor Antonelli che era accanto a Borrelli ha detto il picco non si è ancora esaurito la tendenza in calo a cui stiamo assistendo è il frutto di quel che è accaduto nelle ultime tre settimane insomma ancora il contagio è nella sua evoluzione e soltanto il fatto che si sta chiuso in casa impedisce che ci sia una crescita quindi bisognerà è implicito attendere per sperare nella nella discesa oltre al numero delle vittime oltre a queste parole del professore Antonelli che tra l'altro è il direttore della terapia intensiva dell'ospedale Gemelli di Roma ci sono state quelle di Borrelli che con qualche imbarazzo evidente ha detto che è stato mal interpretato quel suo intervento radiofonico questa mattina in cui faceva capire che fino al primo maggio si sarebbe restati tutti a casa ovvero le misure strettissime che sono state come si sa pochi giorni fa prolungate fino al 13 di aprile dal decreto del presidente del consiglio in realtà secondo Borrelli dovrebbero essere in vigore ancora all'inizio di maggio ma lo stato lo stesso Borrelli a dire che le sue parole sono state mal interpretate che fa fede quella data 13 aprile poi si naviga a vista attraverso le determinazioni politiche e ovviamente il parere degli scienziati queste sono le notizie più importanti che abbiamo sentito dalla conferenza stampa noi ci vediamo se volete tra un'ora come sempre per il telegiornale a dopo a dopo a dopo a dopo Grazie a tutti.